Io e Carlo siamo pronti e vediamo che troviamo. La giovane dresser Claudia ci svela i suoi trucchi e segreti per un addestramento efficace. Fermo! Che mette in pratica durante battute di caccia negli splendidi scenari del nord Europa. Dalle prove alla caccia, dall'11 giugno ogni lunedì alle 21 in esclusiva su Caccia, canale 235. Grazie per la visione!